In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, l'amministrazione comunale di Caustanissetta ha organizzato un servizio di bus navetta gratuito per i giorni di martedì 31 ottobre, mercoledì 1 e giovedì 2 novembre. L'obiettivo principale di questa iniziativa è agevolare i cittadini che desiderano visitare i loro cari defunti presso il cimitero locale durante questo periodo significativo. Il punto di partenza del servizio si trova in Corso Umberto, nell'area pedonale accanto all'entrata dal comune di Caustanissetta. Da qui un bus navetta parte ogni 10 minuti portando i passeggeri al cimitero Angeli. Questo servizio è attivo dalle 7.30 alle 17.30. In aggiunta c'è una navetta che collega l'entrata principale del cimitero alle entrate secondarie, semplificando l'accesso per tutti. In occasione di questi giorni speciali, l'assessore Cettinandaloro ha lanciato l'iniziativa Fiore Sospeso per consentire a chi non può permettersi di acquistare fiori per i propri cari defunti di trovarne alcuni a disposizione in vasi dedicati a chi desidera donarli. Questa mattina il questore di Caustanissetta ha presenziato alla cerimonia di commemorazione dei defunti alla quale hanno partecipato anche il prefetto Chiararmenia, il cappellano della Polizia di Stato Don Vingente Genova e una rappresentanza dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione Calogero Zucchetto di Caltanissetta e sezione Falzone Pilato di Gela. Durante la cerimonia il questore ha deposto una corona di fiori presso il monumento dedicato ai caduti della Polizia di Stato. Questo gesto è stato un omaggio ai coraggiosi agenti che hanno sacrificato le loro vite per servire la comunità e un segno di riconoscimento per tutte le donne e tutti gli uomini dell'istituzione che quotidianamente si dedicano con dedizione e professionalità al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico.